Siamo qua, sono con GTA V e Federico Intanto Matteo e Patrizio Padop stanno a Rocket League e a Minecraft No, io non ci sto, io non sto facendo una mazza, sto facendo Fortnite Ah, ok, va bene Sono in depressione E noi intanto stiamo facendo una missione Allora, raggiungi un impianto di riglaggio Sta guidando Federico Ah, ok, pensavo che erano una maledetta di missione Sì, oddio Fedefri, fedefri Oh mamma Spericolati proprio a random Vabbè Ragazzi, arriviamo a Non più 30 iscritti, ragazzi, perché costa 40 iscritti, giuro che mi faccio la fotocamera Giuro E fai dei shop iscritti Certo Dei shop iscritti qui Ah, un cumonto Ciao Andrea Ah, come? Mi dici ora ciao Andrea? Scusa, prima mi ha detto Eh, hai rotto il caldo Tu non lo devi toccare Lorenzo Te l'ho detto in chiaro e tondo Scusa Che cosa sono a dire? Eh, ha detto Ha detto, non so Andrea Regà, mi fate voi queste cose Ciao Matte, ciao Fede A posto Eh, dai Marò Sto a scherzare Vabbè Sei anni Sei anni Oh Così E' male Quando da piccolo Vedi che ho il bambino Adesso è notato Lo stesso scatto di tuo padre Sì Sì Dobbiamo spartare la leggenda Asci fu Dobbiamo essere Asciziosi Raga, forte Mi ci mette 38 minuti Mortuno Bravi Easy Oh, belli 19 dollari Non ci fanno mai schifo Vai Mi compro il bagno Ora deve Arzionale Arrivano i bastardni Mortangoli loro Fede stai qua Fede stai qua Arrivano Arrivano Non posso Il download mi esplode Se accende un app Eh no Non vengo uguale No regà bellissimo Dicono che se ti alzi di notte Scrivi 666 sul muro E gridi Sato nel mio padrone Si alza domani Ti spassa di botte Funzionano Il 99,9% Bastato Tu risulto Dio non so che fare Ragazzi Io esplodo Tu segui a me Do a cambiare qua sopra Ok Già l'ha fatta Stamice E' esplode la play Splode la play Basso Vai Eh beh non è entrumato Spara 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 Vai 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 andiamo Ciao Io c'ho pochi C'ho poca vita io Aspetta no Guarda dove sei in grave? Beh lo so Mo dicono tutti 37 minuti Però poi voglio andare su forte A vedere la season nuova Pure io a 10 Hai detto season 9 Per gomma Eh mi scusi buon nome Eh vabbè ma quanto sono forte Prontissimo L'invento la sopposta L'ha messo alcune a tutti Vai vai Go 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 Pronti? Un 25 donare Vai Io so morto Ah Mi sono venuti Tutti Tutti Questo Dio Va me ne vanno un po' di vita Vabbè comunque voi andate fuori Eh andate Segui Segui quell'altro Io vabbè Ma te hanno messo No zitto Non lo voglio dire Non lo voglio dire Dai stavo tirando le cuffie Mi stavo già preparando A trasformare il lancio le cuffie In un nuovo sport olimpico E che? Ok Eh perché se mi dici mezza cosa Io esplodo No vieni qua Ma dove sta scusa? Ma cosa del lago? Vieni fuori Vieni fuori Ha detto che lo devo dire Prigati Sono fuori Corri Morto Vai 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 Sali sulla macchina Sali sulla macchina Sali sulla macchina Ma vabbè Ma se mi metti pure sotto Vai 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 Ah sto a poca vita io Tanto non è vero Vabbè Stava dicendo Matta non è messo il davo un palco Un palco Però non è vero Non è vero Non è vero Non è vero Ha detto Eh che cazzo Cazzo spoiler Ti uccido Ti ammazzo la mamma Sì vittoria In tredici strati Quanto te hai da te? Do A me mi ha dato 13.000 13.000 A me pure A me pure A te hai dato 13.000 Io metto mi piace Mettiamone altre Continuiamo a mettere A farne altre Sì vai vai E cosa facciamo Tanti money 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 Dobbiamo fare tanti soldi Tanti Beh una va un po' facile Vede Perché alcune hanno fatto Rapina ha detto Mettila un amico C'è il dico Ha detto Rapina Padri Padri Giochiamo a Brawl Stars Rapiba Ha scritto Andrea Ragazzi Andrea ha scritto Rapiba Napiba Rapiba Napizza Che sarebbe Rapina Mi raccomando Entra Mettono Metto difficoltà Amici Sì certo Madonna sta canzone Mi rilax di da Ma cosa No 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 Non lo dire col nome Perché Andrei Ma perché Non giochi Perché non gioca Andrei scriva Tanto la copro io Su Brawl Ma perché Sta giocando E' con me Stava a giocare Bravissime No No Vede Sembra io Omicidio Omicidio di massa Sapuri Adesso La stazione La stazione De pulizia Vero Oddio Ma vedete Mi sa che Andrea Un attimo L'ho deceduto Andrea è morto Questa è una macchina Comunica Ma perché questo non vuole salire Oh mio Dio Alla stazione Di pulizia Scegli qua Devi guidare bene A più che puoi Ma più che puoi Per terra Guida per terra Siete vai nell'oltretomba A guidare Perché Perché si Ma non ci porto la macchina Nell'oltretomba Bravo Oh questo Almeno lì le macchine Guardate a gratis Cioè Trovi quelle distrutte Siete quelli che sono stati dannati Certo Trovi quelli dei dannati Ma noi ne sono stati a gratis Eh infatti Oh questo Ho congiuto Federico Che fa la confronto Mbè Come una Una pesca Beh Ma che ti lasci Ragazzi Oh mio Dio Strike 1 Tu madre Vittori Ma non è meglio che un'altra macchina Questa fa schifo al sugo Cioè è veloce Però Però Cioè è veloce Però Aspetta Aspetta Sono sceltato il modo di divertire la mia amicizia Ehm Dove sei Eccolo Ma che Ma regà Forse ho capito Eccolo Perché dobbiamo spengere tutti la play E così dopo l'aggiornamento si fa subito Non ho capito cosa hai detto Dobbiamo spengere tutti la play E così dopo l'aggiornamento si fa subito Perché c'è un'altra applicazione aperta no? Io non ho applicazioni aperte infatti Io so se dovrò star cogliati mobili No ti chiudi proprio Ma va Oh è là Se il download casualmente si blocca Se aprite la finestra potete dire un Cristo Silenzio per cuore Siamo solo in una rapina Grazie Tu madre Mi ha ammazzato il genio No vabbè No andrei Sopra 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 Fede No Regalmente con lui Perché questa fa Non ho ancora capito Ti ho mandato l'amicizia su whatsapp Se l'accetto Se possiamo giocare Raggiungi le celle what the fuck No tanto ci siamo solo Ci siamo solo noi due Lo dobbiamo fare Io ho preso tutte giù stasera quindi non lo so cosa fare Ma no dobbiamo scendere Dobbiamo scendere Se me lo sa che dovrebbe fare sopravvivenza in tre C'è già preso l'elicottero No 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 ma quale elicottero sei nato Ok Che peccato però Oh tu madre Fede non mi niente Eh tre squadre Non posso più andare via qua Ma dovevo prendere forse l'elicottero Lui pensa all'elicottero Siete non posso andare via da qua se no Porco giù mi faccio un casino da madonna Come si fa Dovevo per eliminare Su madre Su madre Dico come si fa a guidare Una bella Una bella Ah no Sto bello muretto Ecco ho trovato le celle Che bello Io sto andando con l'elicottero Lo sai che è così prendi meno tolti Vabbè meglio Come Ok Guarda quando vuoi Poi elimino i brissaggi Eh ci ho fatto io E io me ne vado Lascia la zona Andiamo via Fede Cosa poppa Vabbè Hai visto quanti anni c'ha Giova quanto gli pare Fede a me è impossibile che mi vanno prendere Giappa Oh mio Dio Lascia la zona Vai Vai lontano Sì Vieni verso addosso io Io ti vedo dove sei Torna indietro Come fai a saperlo Ah mi vedo Mi vedo Tocca seminare gli sbili Tocca seminare gli sbili Ok C'è quanti giorni Non so come si guida sto coso A terra con l'elicottero Dormirà il giorno A terra con l'elicottero Sto atterrando Eh Muoviti Oh mio Dio Vede non so capace Vedi hai preso l'amicizia Sto coso Eh Fede corri Fede Sono atterrato Corri Accettare l'amicizia Con dichiaria Sto con i miei Sbru Sai sali 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 Infato Vedessero l'altri Vedessero l'altri elicotteri Vai 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 Non ce l'ho Ancora non me la dà la tua amicizia Vai avanti che fai Infato Schiaccio Rami Link Vai su Link VKM Che vuoi dire? Ma no ma come lo vuoi dire l'elicottero De mamma mia Perché tu ti dico sempre I cavoli tua Il pato è così Perché io non voglio fare le missioni Perché tu devi entrare con le cazzate A quest'ora Già eravamo Già stavamo facendo un'altra missione Mettere a piena Atterro così lo guidi tu No Ormai no Che sta la polizia Cambiamo A te quando c'è la giugna polizia Vengo a stecca Stecca so Proprio forte Di quello 7 stecca Di me batte Chissà se c'è Mauro online Su Brustar Mauro si gioca a Prostar Guarda qua Oh no Ok Missione vittoria No niente 12.940 Si chiama Lucano Calzini Ehi sto fiedere Continua a farne altre Mi piace Mi aiuti Ma non mi ha fatto tutti Stanno facendo dei danni molto Per favore Io uno Ah tu madre Zingara Eh Carla A premila di vita Come quasi morto Metti rapina Alla ultima Mi dirà molti La prima Eh la rabbina dai Insomma Tu madre Ma vaffanculo Sì rega Ci hanno Ci hanno aperto un barco Ma ha rotto il cazzo Sto tic E di tic 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 Dai è così Facile No metti un po' Un po' meglio E esplodi Vabbè dai Se no metti facile Ho messo facile Ok Ah rega Tic ma che Cosa Perché mi fa 1500 Non può farmi 1500 Un tic Pronto È illegale Che un tic fa Sì Dopo neanche un po' Sì Minecraft Eh fiete Ci t'ordiniamo Su Minecraft Sì Ok No 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 Sì No rega Ma che Uno è un hacker Uno fa 1000 Tic non può Tic non può fare 1500 Di da Allora muori 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 Nel modo Di assoluto Questa missione Non è per niente bella Ma metti Prendi sta macchina qua davanti No scusa Questa quanta Questa è bella Ma perché Interessante I rotini di Andrea li faccio io Io vedo quanto tempo manca A me 30 A me Aspetta A me sempre tre ore Eh a connessione Fiatri Ma non c'hai la lanna Il cavolo della connessione Attaccalo Se ce l'hai E guarda che il dolore E guarda che il dolore Te lo fai in 5 milioni Di sotterraneo Eh scava Scava Lo scavo E' qua tutto cemento Come tutto cemento E vabbè capita Scavi Che cosa Con le mani Perché andrà a messo a sedio A sedio non ci va bene Scegli Ma te la sai che c'hai Scegli a grado 20 Eh sì lo so Chi tu Sì Pure io Poi c'ho pure Otto la doppia C'è Oh no Andrea Martovato Stecca Stecca guarda E' forte E' il mio bro Preferito Poco giro Hai visto quanto è forte Ce l'ho a livello 8 Grado 18 Stecca io pure Ce l'ho a grado 8 Ma cosa No Io ce l'ho a livello 8 No a livello 8 Ce l'ho a grado 18 Minchia Ecco io Stecca guarda Sono a livello 6 Devo avere l'abilità Stilare con Shelly Perché le mie coppie Trovarla in così poco tempo E' impossibile Ma mi sai che Dove è quella Pochissime Ma che non è da tanto Che c'è oggi il gioco Cioè non è da tanto Che c'è l'ho installato Ci giocare da una settimana In croce Oh Quello steca Quello steca Di livello Le coppie mie Le coppie Quelle coppie che c'è io Non c'è l'ho C'è il grado che c'è io Shelly no Non c'era nessuna Le coppie mie No No Perché ha messo a sedio Toglie a sedio Ho raggiunto il QG Toglie a sedio Gesù Sì ma ho capito Ma io ho cosato Come si dice Pronto Fede Fammelo mettere a me Fammelo mettere a me Che voglio arrivare Qui stiamo parlando Della marijuana Oh minchia Della marijuana Maryweather Maryweather Ragazzi per favore Fede mi hai visto quanti Personaggi stanno Nemici Noi Noi dobbiamo uccidere La marijuana Per prenderci La marijuana Capito? Minchia Ma che ce lo fa Fede? Dove Dove Ammattare la gente E dai E dai Ah se mi scelte Io lo vincere Quello fa Ah no L'ho vista Dallo Dallo youtuber Eh sarebbe quello Mi facciamo scavare Scusa No Non devi far così Devi prenderti un broller E rimanere con quello Per un po' di tempo Dobbiamo fare un po' di voluzione No No So Scegli Eugenio maxati Scegli Eugenio con abilità stellare E maxati E punti Gli ottieni quando porti un broller Allargato 500 Aspetta che io mi metto No No Ah no Vabbè Grazie Fede sali Fede sali Fede sali No regalo Quelli là Sbrigati Due hanno l'abilità stellare Eh Non posso fare niente Perché Vuole ad addosso Eh ho capito Ma quello è Anzi Eugenio Che Come cazzo si chiama Ma c'è l'abilità stellare Non possiamo vincere Se in grado L'abilità stellare No 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 tu madre Tanto Occhio di gatti Ti grabba Ti grabba E il genio mi grabba Già lo so Perché mi si sta avvicinando Vuole prendere No Ma cosa si sta portando E' mancata Boh Porta a prendere l'elicottero Ah No no Ah Tira 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 Ho uscito Vai Non serve Da niente Perché Cosa dobbiamo fare Vedi Non andare sui scelli Padri Non andare sui scelli Che è inutile Fai adesali Non andare sui scelli Ti ho detto Vai Eh non ci vai Vai Eviti Ma manco io Andre togli quel brawler Non possiamo Ah da qua si entra Petri No no Dai metti pronto Vabbè ma entra da qua No Vedi viene pure lui Viene Cosa dobbiamo fare Che Ok Adelibro è che fa veramente schifo Mortis non si vuole guardare in questa mappa Guardiamo Guardiamo qua Ok Cioè pure questa è stellata Nita stellata Mi fa salire Eh ma non in determinate mappe In questa no Vai Sulla scena No no Riccendi Riccendi No Non lo fare Fatti ammazzare da morti E' il disonore più grande del mondo No no Ma annita stellata No Oh Annita stellata Ma che Usagli la ulti in faccia Uccidila Eh da qua Io l'ho detto Da qua Innanzitire Luca Sì Vabbè Ma dai Non ci posso andare Brava stellato No Eh Si Vabbè ma perché questo è stato quello che si dà una volta come la vecchia maniera la ma la vecchia maniera no vabbè manda non può farmi 2000 danno a schicchera ma tu stanno penso ciego a eccoli no 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 vabbè dai quando hai voglia di muoverti è il fatto è tanto fattiato l'orso in bocca posso ammazzare due persone sinistra sinistra o prodigi quello che ho capito ho capito da tanna mi danno a me Sì ma questi passi si sta giocando fa due chilo mio fratello devi salire qua sopra stai lì qua sopra si vado sali la sopra sali la sopra infatti mi ricordavo infatti mi ricordavo che si faceva così fede che vuoi schiamocca aspetta coppiti rega 27 minuti a forza si potà andrea forse entro oggi riusciamo a giocare che non lo so che guarda è quello ma quello no ma non è andrea è morta andrea e non mi uccide burro perché mi fa umiliare perché sono tutti stellati no andrea andrete andrea si deve togliere quel brawler ce la di me lo trovato troviamo solo gente stellata non si deve togliere quel brawler assolutamente non ci possiamo giocare rosso eh l'ho messo adesso bella attento ci sta meravigliando attento l'ho però forte davanti a te davanti a te davanti a te a me mira andrea andrea quante andrea quando voglia di muoversi non faccia sapere riparati grabba va eh dipende sei morto cioè te sono quasi morto devi elimina qui il bersaglio si vabbè ma mai a me ma vuole morire questi vabbè no andrea si deve togliere quel brawler perché non si non posso giocare con la gente maxata dobbiamo scappare aspetta sta venendo verso di te eh ce l'hanno si può giocare con la gente maxata non si può giocare se nessuno di noi è maxato eh vabbè dynamite guardia schifo che aspetta aspetta non la fai sono morto che bello andrea 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 no ma hanno ucciso vedremo tutti sopra le 500 no andrea togli di corvo togli tutti i diversi sopra il 500 tutti i diversi sopra il 500 togli non usarli è andato via dove cazzo lo so non sono spagnato mio dio c'è l'elicottero santo dio no metto questo no io vado a prendere l'elicottero camigliatrice se aspetta cambio perchè non posso cire da qua l'elicottero ho capito facciamo la vecchia mariera e dai sole perché 24 minuti a fortnight donno cosa fare l'elicottero sta sopra fedeli dopo posta ah rega mi sto facendo tutto il pezzo amare nessuno di loro è stellato nessuno di loro è stellato per una volta però sono morto uguale attualmente siamo veramente morti padri non andarli a pusciare non pusciarli non pusciarli quando stai rivendo ti stai vedendo tu vieni qua da me vieni qua da me vieni qua da me da te io e sto salendo un attimo com'è ma cosa ha già assemblato ma è impossibile sto salendo ecco eh andassailo tu sai sto qua vieni qua fuori dove sto io no 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 come tu stai tu vabbè aspetta vado con l'amico mio no 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 devi venire qua da quando l'elicottero dobbiamo scappare no 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 porco fedeli questa macchina quello della mia conosco può impennare ha impennato del tutto ho detto vieni qua da me come faccio come è la fine? capito vado con io se fedeli inizia non ti preoccupare eeeh sono morto tutti quanti mamma fedeli ma chi c'è mi conosco l'onfista può impennare porco giuda vieni verso di me fedeli ciao zia fedeli vieni tutto bene tutto bene devastiamolo fedeli a terra a terra qua a terra qua questa c'è la mitragliatrice addosso a terra a terra perfetto difesa esemplare a terra io pusho la cassaforte io pusho la cassaforte io pusho la cassaforte che dio me la mano c'è un'andre in live eh lo so eh eh di questi dire qualcosa su brastarcia vai sali salicela eh andre eh che che figlio devo dire eh io mi sono messo qua fedeli vada 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 dove sto vai guarda ho guarda vada mo che il robot assembliamo oh mio dio eeeh che verrà sentiamo di livello 15 che sto sparando Il tempo sta scadendo Però siamo all'88% Entrambe le squadre Il primo che pusha ha vinto E poi un robot livello 15 16.630 dollari Vedere Che quasi fanno un bacio dei sordi Pem, pem, pem Facciamo un mi piace Facciamo l'ultima Fate una rapina Ci sta che era lei Fede ha detto Dobbiamo fare una rapina Quante sono le rapine Fede metti qua Questa qua guarda L'elicottero Questa qua Basta che metti facile C'è il telefono quasi scappato 20 minuti all'aggiornamento di Fortnite 20 minuti Poi si può giuntare A me fammi vedere 27 minuti Dai A me 20 minuti A me mancano ancora 3 virgola le cose più grande 3 virgola le cose più grande 3 virgola le cose più grande Come oddio Non giocherai mai Oggi non giochi Federico 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 Mi dice che 3 ore Non sono 3 ore La play mente Non sono mai 3 ore Vabbè poi diventa pure della connessione Padri Siamo andati Siamo andati benissimo 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 Vedete quanto tempo ci hai messo Quando Si sono 9 Aiaiaia Mi ha fatto malissimo Occhio eh Occhio a quella cosa Perché da solo non è bello E beh Aia No Cosa Ma Sì 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 Fidi penso che abbiamo fatto un botto di soldi No Ma c'è C'è Ovviamente Ovviamente mi ha preso con ogni singolo colpo della ulti Ovviamente È rientrato quello È rientrato quello Sono male Eh che fai Eh i fight sono lì E non è che puoi fare tanto Ah no Sto ammettando delle persone Anche te giocherai domani Perché 4 gigabyte in 58 minuti non te li fa Non te li fa Io fidati Oh oh Hai il cavo della lan Beato a te Beato a te Che Uh no Sì Vittorio ce l'ho pure io Il cavo della lanna Eh E come fa a metterti di cigarettri Ancora tre ore Perché non l'hai messo Sono scappato Sono scappato Ma perché non l'hai messo Fede Mettilo Perché mamma Perché se no Mi padre si arrabba E allora che c'è sta falla No Perché mi chiamo Agente No Dio Mi stanno a chiamare Ok sei una persona importante Ok cosa dobbiamo fare Ah certo Dobbiamo eliminare tutti i bersagli No vai È facile Eh certo è facile Ma è molto alla playa Però è vero Qua c'è sta il tempo Quindi c'è qualcosa di separato Come in che senso ci dobbiamo separare Sì Sì Ti ha scappato tutti pa solo Prendi sta macchina Io ti prendo quell'altra Ok La fai? Bella Sì sì Ma fa Per l'ultimo no Bisogna usare un elicottero per il controvallo Sì Eh quindi il tuo patato poi c'è la prova per l'elicottero Ehm Io non lo vedo il tempo Fede Ma che cazzo succede da me C'è stata tutta la polizia ambulanza Un boccone Tutta la polizia stanno qua Sto dire Ah beh tu è importante E' interessata degli altri Ti è stato solo la missione Può essere pure la missione Dobbiamo andare a fare Può essere quella Perché c'è la polizia ambulanza No 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 Da me Da me c'è la polizia Ah Ci stanno tutte macchine da polizia Oh sto zio Fede io ti aspetto là eh Una missione Eh io c'è stanno da C'è stanno da Stanno da un'altra parte io Come? In che senso D'un'altra parte? Eh sì Ti ho detto C'è l'HDV Ah io sto qua Forno Mi trovo C'entro Eh Intanto tu lo ammazza Le vai Ho preso le trofei No ne ho perso un mio Ma dove stanno i bersaglio? Manca Perché mi ha fatto il segnalino? Eh ma anche i mali in quel momento Che faccio? Oh Ma dove stanno qua i bersagli? Fedele Vengi la cassa sotto Vengi la cassa sotto Eh ma no Io ci sono la casa Ma tu stanno? Spike E' rosa Mi piace Non mi piace C'è qualcosa che non può Se che Vengi la cassa sotto Ah Ah Sì perché praticamente C'è ne sa uno sopra il balcone Ok ma manca no No z Spike Fa malissimo Spike Fa malissimo Ahia Sì va bene La madonna Che ci è Oddio quanta gente No non è quello Vediamo Dopo di remettere Ce l'hai stecca? Sì dove stai Vediamo Dobbiamo stare insieme Occhio Ma che insieme Qua ci sa il bersaglio Ah ecco Ma appena sparata Mortale Ci sua No ho fregato Eh dai ce la dovresti fare Io ho iniziato Io ho iniziato Questo Nove No No Ti fanno il bagno Uccidi Morto Uccidi Colto Colto C'è la dovresti fare Aspetta un secondo Secondo Vedi ora inizia Ora inizia a tannar Ce l'ho Che l'ho Che l'ho Ma dove stanno gli altri Ok Una è morte Io buscerei rosa Per una questione di vicino Secondo Porca Come già si la dava Arriva 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 Ok Buon fatto Grande No 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 Che schifo La gente Eh sicuro Sto vedendo la mappa Non sto vedendo altre parti Calpa Ah ma ho fatto il fan Eh Non fai niente Non fai niente Inchiemi Settivo Oh se tu vai in quella Dove c'è Dove c'è tipo Quello ufficio Che tutto Se tutto Aspetta un attimo Eh io sto là Eh devi prendere l'elicottero Ma va bene Stai No No dai Secondo sto quel pezzo Che nada Sulla mappa ti dovrebbe segnalare L'elicottero Prendine uno Il più vicino magari C'è un problema Non vedo il bersaglio E non so come salire Con lanciatore Vuoi l'elicottero Devi prendere l'elicottero Eh ma l'elicottero qua non c'è Non lo vedo io Lo devi andare a trovare Infatti ci dovrebbero fare Sulla mappa Vai se tu prendi Se tu vai sulla mappa Ti dovrebbero dare degli elicotteri Eh Sì ci sono degli elicotteri Eh Vai là prendi l'elicottero E fermi parli a mazzare Non ci sta Eh non posso Non posso C'è qua Scegli Non ci credo Che ho fatto Ce ne sta uno con l'elicottero Non c'è un manco Il lanciarazzi Oddio guarda là Questa punto qua Soi so tre team So tre team So tre team So tre team E niente Tu vai Tu vai dove sono io Fede No fede Stavo sia troppo difficile Con l'elicottero Ecco perché No 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 Già G G Ok Ok No tu devi prendere un'altra persona Un'altra elicottero Non capisci Ma non lo vedo l'elicottero Dai dai ci si Dai vi prendete la mappa Aia Tanto Dio Sì sì lo so col bombotto Questo devasto tutto Mamma mia Mi capisci Ma sta un culo L'elicottero Oh danni Ottimi danni Lo devi prendere Vuoi fare i divorzati Eh amma Vabbè vado a prendere l'elicottero E' sto tipo qua Ma tu cazzo Nooo Nooo Mi sto muovendo Danni 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 Ma ho mancato Vai Vai No No Io si Sto sono andati Mi fanno passare Perché Dai perché è nato là Perché c'è il regno C'è il regno Scegare il segnato Passardo Un po' Poffa Abbiamo Io poi la sua No Io più tre Mamma mia da farò ammattare salendo a cassetta la sopra quella è catticissima ok eccolo ma come si salga per acqua dovrei esserci uccid uccidio ok eccolo perché oh appena scendo dalla macchina lui va via cioè smette di camminare poi appena scendo l'elicottero elicottero 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 ok ci sono l'elicottero ne sappia per culo ne sappia per culo dai 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 martis a dai cavolo eh però ci vuole eh ormai ci vuole no 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 panino panino come si fa sparare qua freddo ho preso ho preso sto su quel ilicottero e devi ammazzare come si fa sparare manca meno di un giga all'aggiornamento no devi scendere spararlo devi scendere sparare ah madonna sopra 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 mi raccoggiuta sì ecco fricate che non è che ci abbiamo avanti fede non è facile oh cos'è quello no oggi dimmi che non è lo scontro finale non è contro quella minchia ancora noi che ce ne sa solo uno no ed è tona copa o e lo so di che è ma che è raggiunto facendo da giù si aveva avanti vai vai è la tua occasione scherziamo e poi il controllo di merda ma no no ci sta è fatto una bella giocata come è andata bene ora non si vuole distrugge questo sto elicottero c'è da l'ora che lo so farà che vedete lo cisi tutti ok poi perché non lo fa più prendere non va più prendere l'elicottero come faccio andare via da qua san cristo dio video è interessante non mi fa prendere l'elicottero cioè non mi fa entrare no no percorrere non mi fa entrare l'elicottero what the fuck non lo prendo perché lo guardi sto bastardo fede è chiuso l'elicottero non ci posso più entrare come è chiuso lo si sono usato due secondi fa eh non ci posso più entrare sto prendendo da tre ore di angolo eh lo so ma guarda che passardo che mi fa l'icottero eh niente mi deve aiutare questo elicottero di merda eh fede tutto siamo morti 15 14 13 è fredda la missione perché tu non ti dà una mossa perché? come faccio a scendere? ci hai messo tre anni eh questa missione vabbè per colpa tutta per colpa è tua tra l'abbè 3.010 dollaro mica fa schifo eh che cazzo ci fai con questi soldi manco ci compri una moto vabbè non ti cassa la cucciuta oh ma non ci ho mamma mia eeeh andiamo non manchia la fotografia ci sono franco o stiamo ancora su gta fede ok ok eh ho tirato una ulti anche se nooo ok allora esci no 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 non morire non morire non posso fare la missione con te perché ecco cosa succede eh mamma mia ragazzi questo è proprio per concludere qui mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un bel video attivate la pennellina e ciao